voi siete 16 splendide ragazze ma il regolamento prevede che nella scuola di italia's next top model entrino soltanto 14 aspiranti modelle dunque la giuria ha eliminato due di voi michela ti hanno consegnato le foto molto bene allora iniziamo anastasia fai un passo avanti se è messa nella scuola di italia's next top model complimenti anastasia giorgia sei dentro la scuola giorgia complimenti anistia sei a messa anistia scuola di italia's next top model caris elisa complimenti elisa sei dentro la scuola carlotta complimenti gilda brava ora sabrina jade complimenti jade eleonora carolini complimenti carolini la prossima ragazza che entra nella scuola di italia's next top model e devo dirlo bene perché veronica ti complimenti veronica allora sono rimaste tre ragazze giada non sei stata messa nella scuola di italia's next top model mi dispiace e ora due ragazze per un posto e ora due ragazze per un posto e io voglio che vada verso michela attina 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 prendi la tua foto sei dentro la scuola attina complimenti veronica mi dispiace avrei capito chiaro che non sei stata messa alla scuola raggiungi per favore giada ragazze mi dispiace veramente ma purtroppo per voi le porte della scuola di italia's next top model restano chiuse grazie mille invece voi 14 potenziali vincitrici di italia's next top model complimenti ragazze bravissime bravi 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 bravi